Dopo circa quattro ore di dibattito, con il sì di maggioranza e minoranza e l'astensione del Movimento 5 Stelle, è passata in Consiglio regionale la proposta di legge numero 81, meglio nota come Piano Casa. A relazionare sull'argomento in aula il consigliere Salvatore Ciocca, primo firmatario della proposta Bipartisan. Risparmio energetico, miglioramento e adeguamento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche sono stati alcuni dei punti di forza della legge illustrati dal consigliere. Da sottolineare anche le riduzioni degli oneri urbanistici per incentivare gli interventi atti sia al miglioramento strutturale e sismico con il contestuale aspetto economico-sociale legato alla ripresa del comparto dell'edilizia. L'incentivazione delle attività edili è perseguita attraverso un doppio binario di premialità, incrementi volumetrici e riduzione dei contributi di costruzione o anche esenzione. Il nuovo piano casa, che poi è una modifica di quello precedente con riapertura dei termini, che si protrarranno fino al 31 dicembre 2017, intende rilanciare le attività edilizie, quelle correnti, quelle normali, quelle non speculative, quelle che in questo momento soffrono di più perché di fatti l'edilizia è ferma. Abbiamo adottato una linea di salvaguardia del tessuto urbano preesistente, premiando anche con riduzione consistente, qui non me ne vogliono i sindaci, ma le due l'una o consentiamo una ripresa del comparto o altrimenti non ci saranno più introidi nemmeno da parte dei comuni. E quindi diciamo che salvaguardiamo l'esistente prevedendo proprio agevolazioni, non solo da un punto di vista di riduzione, quindi degli oneri urbanistici, quindi i famosi oneri bucalossi, tanto per intenderci, ma anche prevedendo primialità per chi ricostruisce con adeguamento sismico, per chi fa dei miglioramenti a livello energetico, chi passa una classe superiore significa anche risparmio energetico, oltre che chiaramente creare nuove occasioni di lavoro. Tutti i comuni dovranno dotarsi di un piano regolatore generale, attuale e moderno, che tenga conto delle mutate realtà locali e non lasci la programmazione urbanistica in balia di sentenze o riqualificazioni forzate. Le amministrazioni che non hanno un piano regolatore attuale, moderno, devono muoversi affinché questo venga redatto, quindi c'è nella legge proprio uno stimolo, riaprendo un po' i termini precedenti che già c'erano, dicendo vi ridiamo ancora 120 giorni affinché provvediate a questo, ho detto imperare responsabilmente questa situazione. Perché andare con continui interventi, dettagli da TAR, da commissari straordinari, da tante lasciamo perdere, non voglio andare oltre e fare a macchie di Leopardo degli insediamenti che non sono collegati, che non hanno delle strutture ricettive, che non hanno una viabilità consona, significava continuare a sbagliare, l'esempio di Campobasso e Lampante. Respinti gran parte degli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle che hanno indotto i due rappresentanti ad astenersi dal voto sull'intero testo come dichiarato da Antonio Federico. Passata la legge che modifica il piano casa, oggi è iniziata la sessione per il bilancio di previsione. Si tornerà in consiglio il prossimo 27 aprile.